ciao ragazzi benvenuti qua sul canale di pompelmo oggi vedremo come prendere tutti gli stili di cartonno il nuovo pesce del pass battaglia di fornite mi raccomando shop anche tu il pass col codice creatore pompelmo nrg comunque questo è cartonno e ragazzi comunque mi duole dirvi che questo è uno dei pass più belli che abbiano mai fatti e ci sono delle skin veramente di altissimo livello come charlotte cartonno che andremo a vedere adesso come prendere la skin e la più bella di tutte è fabio comunque per queste ci vorranno ancora tanti livelli comunque andiamo a vedere come prendere le skin di cartonno abbiamo bisogno del set di colori e poi quando avremo il set di colore dovremo comprare gli stili di colore i set di colori si trovano in giro per la mappa e seguete questa semplice guida guardate adesso andremo a vederci la guida facilissima e utilissima andiamo qui su fornite gg e mi fanno gli alert comunque andiamo avanti attiviamo il color bottle e vediamo dove trovare le lattine di colore che ci serviranno per sbloccare gli stili di cartonno una volta trovati questi preso il set completo come vedete una volta che prendiamo tutto un set completo quindi dovremo andare in questo posto l'indare e prendere questi barili noi torneremo nel gioco e non dovremo fare altro che aspettiamo un attimo qua abbiamo un piccolo problema tecnico che acquistare uno di questi con le goccioline di colore come vedete qua possiamo acquistare come vediamo lo stile pink di cuddle leader e l'abbiamo acquistato e questo colore entra perfettamente con cartonno quindi ricordate la prima cosa collezionare tutte le latte di colore del pesce sulla mappa seguendo la mappa di fornite gg e poi con le goccioline che trovate dalle ceste tutte le ceste i presenti in game potrete vi andrete comprare set di colori e avrete la personalizzazione di cartonno ragazzi noi ci vediamo un altro bellissimo video tutorial ciao